Abbiamo detto appunto Wild Hacket che si gioca e di cui abbiamo appena parlato con il suo trainer Marco Botti e poi appunto Way to Paris, altro che ha mirato questa corsa da lontano, i colori italianissimi appunto si diceva di Paolo Ferrari un proprietario storico, un proprietario della passione cristallina e che proprio qualche giorno fa ha compiuto 90 anni quasi tutti vissuti qua da appassionato, da proprietario a Tifari per i suoi cavalli, oggi per lui la soddisfazione di vedere Way to Paris qui nel Gran Premio di Milano Way to Paris che ha rifinito la preparazione in Francia dove è stato trasferito ed è giunto ora qui a San Siro dove trova in sella Pier Antonio Convertino che nell'uscita primaverile qui a Milano l'aveva già condotto alla vittoria C'è poi Moonshiner, il tedesco, montato da Michi Cadeddu che sullo standard dell'anno scorso l'anno scorso in Francia era un Carlo che vinceva le corse di gruppo, si è piazzato anche a più riprese in quel tipo di contesto quindi se fosse di nuovo su quello standard anche lui un degno pretendente alla vittoria in questo Gran Premio di Milano Interessante poi la chance di Time to Choose perché è un'altra pedina proveniente da Cenai a questo Time to Choose che è praticamente anche lui autore di un'escalation continua nella sua carriera che è arrivata fino a questo punto alla vittoria nel Presidente della Repubblica il 14 di maggio a Roma Presidente della Repubblica, altra classica e che gli ha dato quindi il lascia passare per questo Gran Premio di Milano dove l'incognita più grande per lui è la distanza dei 2400 metri tutti già dietro le gabbie di partenza, la tensione davvero cresce perché il Milano sta per partire crescerà anche nelle parole e nella voce di Luca Galbiati pronto in la sua postazione a raccontarci questa edizione del Gran Premio di Milano Cavalli del Gran Premio di Milano che hanno raggiunto la zona del Via la corsa più importante, la corsa top, Full Drago non si scappa a Chelindo l'ungherese uno dei due grigi della corsa e adesso Time to Choose che è già entrato e Way to Paris che sarà l'ultimo cavallo a prendere posto Partiti, cavalli del Gran Premio di Milano 2017 Full Drago subito molto veloce nel portarsi immediatamente a condurre Wild Hackett che è preso la corsia interna invece a largo avanza Moonshiner poi Time Chant nei confronti di Way to Paris che galoppa per le corsie esterne avendo in Schia Refusto Bobbin e Time to Choose l'ultima posizione per Chelindo Full Drago davanti, la sua leadership non viene messa in discussione il leader che gestisce le sue frazioni davanti senza premere troppo suo acceleratore in questa prima fase di corsa Moonshiner si è immediatamente adeguato in Schia in giubba gialla con le maniche blu al terzo posto in corda in giubba grigia è sistemato invece Wild Hackett il grigio Time to Paris rimane quarto per le corsie esterne avendo al suo interno Time Chant con l'altra giubba gialla ma con la stella blu sul petto poi ancora Refusto Bobbin che precede in giubba scacchi Time to Choose a chiudere il gruppo Chelindo un gruppo molto compatto con Full Drago che non si è dannato l'anima meno fino adesso quando ormai vede già il completamento della retta di fronte il leader mantiene la sua lunghezza di margine su Moonshiner che rimane sempre secondo all'interno Wild Hackett al largo Time to Paris che tende un po' a frettare i tempi nel senso che si porta secondo al fianco dell'avversario più diretto Time Chant scivola al quinto posto poi ancora Refusto Bobbin, Time to Choose e Chelindo siamo sulla piegata finale con Full Drago che è in vantaggio Time to Paris lo va immediatamente a pungolare avendo scavalcato definitivamente Moonshiner all'interno Wild Hackett che si muove viaggiando coperto il più possibile poi Time Chant, Refusto Bobbin, Time to Choose e Chelindo il gruppo si è allungato in questa fase perché Full Drago l'ingresso di retta d'arrivo dice che è tempo già di sveltire quando mancano 800 metri rimane in quota Way to Paris i due prendono vantaggio rispetto al resto del gruppo che si è fatto sorprendere su questa accelerazione Full Drago in fuga su Way to Paris che lo segue ancora da vicino Wild Hackett terzo, poi ancora Moonshiner all'interno Time to Choose il grigio Way to Paris si muove all'attacco di Full Drago i due lotta aperta rispetto al tentativo degli altri con Time to Choose e Wild Hackett che possono recuperare i 350 metri finali Full Drago che riparte in corda sotto l'attacco di Way to Paris Time to Choose che è dietro che prova ad aggiungersi ma ancora un po' dietro mancano 200 metri, l'ultimo farron della verità con Full Drago che è ancora in vantaggio Way to Paris che attacca Full Drago contro Way to Paris Full Drago contro Way to Paris Full Drago che vince il Milano in cost to cost davanti a Way to Paris al terzo recuperone da parte di Chelindo sul Time to Choose che bel Milano Dario Vargiù a Michi in sella che pennella ancora una volta andando a vincere una bellissima corsa ma che Way to Paris in questo bellissimo testa testa, in questo bellissimo slow motion che certifica il successo di Full Drago un campione un campione eccola qua una lunghezza abbondante su Way to Paris ovviamente i di oscuro e i colori ovviamente Alduino Botti e Sochi al training davvero una bellissima corsa bellissimo Milano poco da dire suggestivo anche lo slow motion che ci offre la nostra regia sul massi schermo un bellissimo primo piano che bella immagine è questa su Full Drago e Dario Vargiù che dà un controllo al maxi schermo per vedere dov'è il suo avversario qui si gira capisce che ormai è fatta e si può liberare in tutta la sua gioia Dario Vargiù che è sempre molto compito nelle sue manifestazioni di gioia davvero un gran bel Milano vince quindi Full Drago tutto secondo betting con Way to Paris che conferma di essere un cavallo importante ci vediamo quest'autunno con lui per il Giochi Club cavalli che stanno rientrando grazie a successo dunque per Full Drago cavalli che stanno rientrando siamo già quasi in zona Bertolini al quale comunque cedo subito la linea c'è già emozione qui al rientro da parte del pubblico in attesa di ricevere il vincitore Dario Vargiù in sella Full Drago che viene prima accolto da Stefano Botti e dal suo manager dal manager di Dario Vargiù Andrea Arbau che vanno al rientro ad applaudire la vittoria del Fantino di Oristano che rientra sorridente ma composto come diceva Luca Galbiati è sentiero è questo è questo il boato di San Siro signori il boato per San Siro e allora complimenti Dario c'è sempre grande esultanza quando rientri tu specie quando vinci queste corse ferma questo treno e questo è un omaggio di Dario ai suoi fans sarà difficile intervistarlo lo avremo dopo Dario Vargiù perché rientro qui a San Siro è un tripudio unico per uno dei fantini più amati d'Italia ma soprattutto qui dal pubblico milanese che vince con Full Drago una sola frase sentita da lui ferma questo treno e in effetti così è vittoria bellissima vittoria che era attesa per questo cavallo nel Gran Premio di Milano che oggi si conferma si conferma davanti a un battuto ma con grande onore Way to Paris che stracorre e coglie la piazza d'onore e dopo questo la linea torna alla regia grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie.